Musica Abbiamo con noi la dottoressa Bonfanti che oggi è impegnata a presentare una nuova dimensione nell'ambito delle quote rosa nell'ordine dei dottori commercialisti. Ci vuole spiegare come si svolge? Allora innanzitutto l'ordine dei dottori commercialisti di Monza, esperti contabili, ha istituito il comitato pari opportunità su impulso del Consiglio nazionale e nell'ambito di questo comitato pari opportunità che ho l'onore di presiedere abbiamo organizzato assieme all'Associazione Culturale questo corso che si svolge in cinque lezioni e prende l'input dalla legge Golfo-Mosca, la cosiddetta legge sulle quote di genere. In quanto le prossime assemblee delle società quotate e delle società prevalente partecipazione pubblica dovranno prevedere l'ingresso di donne all'interno del Consiglio di amministrazione e dei collegi sindacali. Tuttavia questo corso non è assolutamente, come tutte le attività peraltro che il comitato pari opportunità realizzato finora non è riservato solo alle donne ma è aperto a tutti gli iscritti e abbiamo anche iscritti di altri ordini professionali e di altre città perché l'argomento della partecipazione, consigli di amministrazione, collegi sindacali, la conoscenza e l'approfondimento di tutte queste normative internazionali a carattere finanziario societario è un elemento di formazione anche specialistica dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Abbiamo con noi il dottor Gilberto Gelosa, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Monzebrianza. Ci può spiegare il vostro ordine, come intende aggiornare gli associati e cosa state organizzando per le nuove normative? Come ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili abbiamo un'attività di formazione che è prevista nella normativa dal nostro decreto istitutivo dell'ordine per cui noi ci posizioniamo in modo da fornire ai nostri iscritti un servizio di formazione e aggiornamento continuo. Abbiamo quasi più di 180, quasi 200 eventi formativi all'anno su tutte le tematiche che contengono la professionalità dei commercialisti, dal fisco al societario al contabile e anche le nuove tematiche come ad esempio la legge 231. Quindi siamo presenti su tutti questi aspetti. Organizzate presso la vostra sede degli incontri tematici per cui? Noi organizziamo la gran parte presso la nostra sede che abbiamo da gennaio 2012 con due sale formative da una capienza di circa 330 posti. Talora andiamo anche sul territorio per avvicinarci agli iscritti con degli eventi particolarmente presso istituti di credito oppure municipalità e abbiamo questo legame stretto con il nostro territorio e con i nostri colleghi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!